Valeria, non mi far parlare, non mi fare dire quello che ho visto io tre anni fa, per cortesia, per cortesia, quindi capisci che è una convivenza forzata. Lo stiamo vivendo oggi, noi, tutti i giorni, chiusi in casa, 24 ore su 24, capisci, non è facile, lì è ancora più difficile perché non hai telefoni, non hai computer, non c'è televisore, non c'è radio, non puoi interfacciarti con nessun altro se non quelli che sono dentro la stessa casa. Valeria, non mi far parlare, non mi fare dire quello che ho visto io tre anni fa, per cortesia, per cortesia. Quindi capisci che è una convivenza forzata. Questa è aggressione, questa è aggressione verbale se tu dici a me che io non posso parlare. Di cosa? No, l'aggressione me la stai facendo tu. Tu mi hai detto che io non posso parlare, per quale motivo io non potrei parlare, Valeria? No, perché non c'eri là, quindi come fai a parlare? Ma no, io parlavo di tre anni fa, ho detto non mi far parlare, non mi fare dire quello che io ho visto tre anni fa. Ah, di tre anni fa? Ah, ti sei dimenticata? Scusa. Tu non ti rendi conto di come sei in questa casa, forse. Ma per che cosa? Non te ne rendi conto perché tutti stanno zitti e hanno paura di dirti le cose. Ma per che cosa? Io non ho paura dirtele. Ma per cosa stai dicendo? Di certo. Lo capisci che psicologicamente ti trita? Ma per cosa stai dicendo?